ciao ragazzi sto lasciando la mia casa qui a parigi sto per partire per un altro viaggio incredibile lunghissimo penso che saranno di quei viaggi che veramente entra negli annali la prima destinazione sarà dubai poi da dubai solo per una sosta in realtà poi da dubai si va hong kong da hong kong si andrà poi in vietnam prima a noi poi alla baia di halong poi dal vietnam si andrà in cambogia in cambogia andremo poi a scoprire quelle che sono le famosissime rovine e poi da lì per finire in thailandia in thailandia dove andremo a bangkok chiaramente poi in qualche isola però lì è ancora tutto da decidere quindi vedremo come andrà cosa che ancora mi interessa ancora di più è che per fare questo super viaggio dovrò prendere uno degli aerei anzi l'aereo per portata di passeggeri più grandi al mondo ovvero l'airbus a 380 sono curiosissimo di prenderlo e poi condividerò con voi la mia esperienza vi dirò com'è veramente stare a bordo su un gigante dei cieli del genere can't wait devo partire dove ho bisogno una parte del viaggio che ancora oggi mi esalta sempre tantissimo è quando devo prendere l'aereo sono sempre stato un po fissato con gli aeroplani in realtà già quando ero piccolo stava a guardarli per delle ore non lo so c'era qualcosa di così misterioso nel vederli decollare atterrare con quella grazia quella leggerezza che sembrava quasi magia ma devo dire che anche oggi dopo aver preso decine di aerei prendere il volo non mi lascia affatto indifferente ed oggi tra l'altro un motivo in più per non esserlo perché ho scelto il volo appositamente per salire su un vero e proprio gioiello della tecnologia ubaldo aveva un sogno da grande non voleva fare l'usciere o il ballerina voleva solo smetterla di viaggiare come un barbone e salire sull'aereo più grande del mondo certe cose non si possono comprare per tutto il resto c'è emirates ecco lo vedete lì dietro quello è l'aereo per trasporto passeggeri di linea più grande del mondo può portare fino a 800 persone tutti sullo stesso aereo sono due piani 80 metri di apertura l'are una cosa tipo un gigante del cielo dicono che sia veramente comodo ma dobbiamo verificare e toccare con mano dire in realtà come primo impatto sembra di salire sul normale grande aereo da transoceanica poi però ti trovi davanti una scala e realizzi che sopra di te c'è un altro piano pieno di gente ma la vera differenza la fa l'ala non avevo realizzato che potesse essere talmente grande da praticamente coprire tutta la visuale del resto è largo quanto un campo da calcio con i suoi quattro potentissimi motori rolls che compiono il vero miracolo ovvero far decolare un bestione che pesa più di 500 tonnellate a per vostra informazione se volete comprarlo costa circa 220 milioni di euro chiaramente poi da scontare se fate degli acquisti sostanziosi qualche chicca di bordo oltre ad avere un dignitosissimo spazio per le gambe che poi evidentemente aumenta ancora se avete la fortuna di essere spostati sulle uscite di emergenza come mi è capitato al rientro ogni finestrino ai bordi in radica molto molto low profile ma la cosa che mi ha fatto sbiellare di più è la possibilità di scegliere le telecamere per guardare fuori non solo le classiche due posizionate sotto e davanti ma ce n'è addirittura una messa sul punto più in alto sulla pinna questa vi permette di vedere la aereo in tutta la sua grandezza no vabbè geniale e cammina cammina è arrivato il momento del decollo no dai veramente questo cosa non può volare come fa ad alzarsi e invece lo fa eppure con molta eleganza e molta tranquillità sembra addirittura che stia seguendo due rotaie visto quanto è stabile se siete sulle ali potete veramente dormire sonni tranquilli e come in ogni viaggio aereo è tempo di regredire allo stadio infantile oh il trinomio pappa nanna popò è in agguato fantastico iniziamo con la pappa c'è addirittura il menù certo che così alzate l'aspettativa eh beh dai il cibo non è male per stare a 10.000 metri di quota ci sono anche una cheesecake e addirittura le tic tac monodose che lusso sono appena decollato devo dire che non posso urlare perché c'è molta gente che dorme però il volo è stato il decollo è stato incredibile veramente super stabile nessuna percezione di vuoti d'aria o altro l'aereo è incredibilmente sembra veramente di essere parcheggiati a terra in più anche tutto il servizio di entertainment veramente hanno un sacco di film non male come viaggio e così tra film cibo e riposini il viaggio passa rapidamente fino a che inizia a vedere il deserto sempre più vicino che poi diventa una città dubai in vista l'aeroporto ha un numero incredibile di questi mega aerei tanto è che gli aerei normali sembrano dei giocattoli a confronto beh quindi è tempo di lasciare questo hotel volante e di fare due passi in questa città che spunta come un oasi nel deserto arrivato a dubai come dire l'aeroporto è qualcosa di spettacolare sembra di stare in un luogo in un luogo non luogo disneyland centro commerciale tutto insieme al prossimo video allora e mi raccomando iscrivetevi al canale e piazzate anche qualche like che fa sempre piacere attenso 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 Grazie a tutti